In Valterina Valchiavenna 14.400 interventi hanno visto impegnato nel 2019 il personale di Areu, l'azienda regionale Emergenza Urgenza. Mi sono importato a termine in un territorio interamente montano, tra i più complessi della Lombardia, dove ai 180.000 residenti si aggiungono milioni di turisti. Il raffronto che possiamo fare con gli anni precedenti è quello di un incremento dell'attività assoluta. Nel corso degli ultimi due anni c'è stato un incremento, nel senso che siamo passati da poco o meno di 13.000 interventi all'anno a oltre 14.000 interventi su tutto il territorio provinciale. Guardando anche la gravità degli interventi intesi come triage, come codici, qual è il quadro relativo al 2019? Il quadro di codici rossi fondamentalmente è rimasto invariato, siamo intorno ai 16% di codici rossi con un 70% di codici gialli e il restante percentuale sono codici verdi e codici bianchi. Il vostro ruolo è molto importante per i residenti e anche per i tanti turisti che raggiungono la provincia di Sondrio? Assolutamente sì, per questo motivo e per le cose che dicevo abbiamo studiato anche un incremento delle nostre risorse sul territorio in accordo con la direzione generale di Areo e quella di ASST, Valtellina e Alto Lario, e abbiamo potenziato nel 2020, stiamo potenziando le risorse sul territorio, sia come postazioni medicalizzate, all'inizio della stagione invernale è partita una postazione medicalizzata diurna a Bormio che proseguirà almeno fino alla conclusione della stagione invernale e in questi giorni stanno partendo due nuove postazioni, anzi due nuove ambulanze, una a Morbenio e una a Sondrio, ambulanze di base con i soccorritori, però questo ripeto nell'ottica di dare sempre una maggior risposta. Nel 6% dei casi Areo è stata impegnata nel soccorso di persone coinvolte in incidenti stradali, il 56% di interventi è stato per malori, il 20% per cadute, senza dimenticare i grandi eventi sportivi come la Coppa del mondo di sci ospitata a Bormio, Vai d'Otest in chiave olimpica. Abbiamo coperto tutte le giornate di attività sia di prova che di gara e tenete presente che l'impegno è stato addirittura di 12 equip lungo tutto il percorso della pista, oltre banalmente un elicottero aggiuntivo dedicato all'attività di gara proprio per non andare a interferire con l'attività di soccorso ordinaria e una serie di mezzi di base a supporto anche del parterre e dei turisti. A fine mese avremo i mondiali di short track sempre a Bormio.